Musica Silenzioso e addormentato, ma ancora per pochi giorni. È scattato il conto alla rovescia per la grande riapertura di Cinecittà World, in programma giovedì 2 aprile con il primo Chuck della stagione battuto da Carlo Verdone. Tra prove di ballo e ultimi ritocchi, il Parco Divertimenti di Roma dedicato al cinema aggiorna il palinsesto in vista di un 2015 da sogno. Tante le scenografie rivisitate e gli spettacoli allistiti. L'entrata è in puro stile gangster, tutta Charleston e proibizionismo della New York anni 20, ma non possono mancare le rovine dell'antica Roma e la fantascienza con Altair, l'astronave intergalattica che viaggia sul rollercoaster tutto curve e spirali. Ogni genere cinematografico ha il suo spazio, compresi gli action movie e i film di guerra. Irresistibile il viale stile spaghetti western, dove lo sceriffo affronta i fuorilegge e le scenografie sono arricchite dalle musiche del premio Oscar Ennio Morricone. Ci sono poi l'horror dell'inferno dantesco e l'adrenalinica torre di caduta, ma anche i sogni dei più piccoli possono prendere vita all'interno di Sogno Labio, per emozionarsi con barche, giochi d'acqua e biciclette magiche. A parlarci della novità del 2015 è Marina Cipriano, direttore marketing e vendite di Cinecittà World. Il parco riapre il battente il 2 aprile, fervono all'interno i preparativi. Siamo veramente eccitatissimi di questa riapertura e aspettiamo tantissimi ospiti per far vivere il mondo del cinema qui a Cinecittà World. Quali saranno le novità di questo 2015? È un 2015 ricchissimo di novità proprio perché Cinecittà World dà a tutti i suoi ospiti la possibilità di vivere il mondo del cinema. Il parco è un parco assolutamente coinvolgente e molto molto evocativo. È stato disegnato da altre volte premio Oscar Dante Ferretti, abbiamo le musiche di Ennio Morricone e all'interno del parco è possibile rivivere tutti i generi cinematografici più amati dal pubblico. Quindi a questo punto l'attenzione si sposta al 2015, quali sono i vostri obiettivi? I nostri obiettivi sono obiettivi molto ambiziosi, abbiamo una stagione molto lunga, apriamo dal 2 di aprile tutti i giorni fino a settembre e poi continueremo a rimanere aperti nel weekend per tutte le vacanze natalizie. Il brand di Cinecittà e comunque la notorietà di Cinecittà e Cinecittà World hanno un'apertura non solo nel mercato italiano ma anche nel mercato estero e quindi confidiamo davvero di riuscire ad attrarre tutti i turisti che visiteranno Roma anche in occasione dell'Expo. Oltre al sito internet completamente rinnovato, debuttano proprio nel lungo weekend di Pasqua le agevolazioni che comprendono il pacchetto parco più hotel a partire da 49,50 euro, ma anche sconti per gli over 65 e un biglietto in abbinamento al servizio navetta dalla stazione Termini, ma soprattutto il ticket dinamico. Abbiamo una novità importantissima quest'anno, il prezzo del ridotto, quindi un prezzo bassissimo, verrà applicato per tutti i ragazzi fino a 15 anni compiuti e il nostro sito, che è stato completamente rinnovato, cinecittàworld.com, offre la possibilità di acquistare un biglietto a prezzo dinamico a partire da 23 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi. Spettacoli, attrazioni, ristorazioni di qualità, addirittura con il pane fatto in casa, anzi nel parco. Insomma, tutto è pronto per un divertimento da Oscar.